Domani 6 dicembre alla GIL di Campobasso, la terza festa dell'emigrazione. Questo per tracciare un percorso nella storia ma anche per guardare all'oggi. Il 6 dicembre alla ex GIL a Campobasso, la giornata dell'emigrazione. Presidente Codunglio, lei ha voluto sottolineare la presenza di tanti molisani fuori da questa regione e che per ora presentano il Molise. Noi non possiamo assolutamente dimenticare le 700-800 mila persone che sono in giro per il mondo che tanto hanno fatto per portare avanti sempre l'onore, l'onore, il nome della nostra regione, del Molise e che noi con una legge regionale abbiamo stabilito di poter onorare proprio loro con il 6 dicembre con la famosa festa dell'emigrazione molisana. Coincide anche con il ricordo di Mononca, una tragedia immane che ancora oggi è scolpita nei cuori di tutti quanti e che serve proprio per innalzare sempre di più quella che è la sicurezza sul lavoro e mai abbassare la guardia. Ecco Presidente, non è una giornata solo per ricordare ma è una giornata anche per guardare avanti al domani. Sicuramente l'emigrazione è un'emigrazione che oggi è diversa ma purtroppo ancora c'è. I nostri giovani ancora oggi emigrano per trovare un futuro migliore. Sta la classe dirigente di questa regione fare in modo tale che questo possa essere frenato e quindi i ragazzi possano trovare quelle che sono le loro aspettative giuste e legittime in questa regione. Sono momenti con la partecipazione delle scuole attraverso alcuni filmati ma c'è proprio l'opportunità, come diceva lei, che i giovani possano restare nella propria terra. Assolutamente, io sono convinto che stiamo lavorando e stiamo sulla strada buona, sulla strada giusta per portare fuori la crisi in questa regione. fuori dalla crisi, io mi auguro che i prossimi anni siano anni di ripresa economica che significa nuova occupazione, che significa la possibilità che i nostri giovani possano, come dicevo prima, realizzare i propri sogni nella loro terra.